Precipita dalla palestra di roccia, rimane seriamente ferita. Un volo di diversi metri e l'impatto violento con il terreno. Una donna di 49 anni ha riportato fratture in diverse parti del corpo a seguito dell'incidente accaduto a Solagna stamattina, poco dopo le 11, nei pressi appunto della parete attrezzata. Sul posto sono giunti i sanitari del suo M.D. Crespano e l'elisoccorso da Treviso che ha trasportato l'infortunata all'ospedale Caffoncello.